ciao amici io mi chiamo matilde vivo con i miei fratellini e le mie sorelline e da qualche giorno ho adottato a distanza questa tipica famiglia romana composta da leonardo mamma paola e papà giovanni no non questo questo non proprio tipica famiglia romana visto che qui l'unico romano è leo allora dire una cosa ai romanaccio maniare più o meno romano ad accudire questi simpatici umani fino a poco tempo fa sono state due porcelline d'india brigida e martina ma a dire il vero non ho ben capito che fine abbiano fatto so solo che venivano trattate meglio dei cani della regina elisabetta per controllarli meglio però ho deciso di trasferirmi nella loro casa ma prima però ho fatto un elenco a mamma paola e papà giovanni di quello che serviva per il mio arrivo ovvero delle simpatiche ciotoline per la pappa tanta pappa una comoda lettiera per i bisognini una cuccia con qualche giochino una piccola monovolume per gli spostamenti e un tiragraffi che ricordasse un po' il bellaggio l'hotel super lusso del film Ocean's Eleven e un po' il bellissimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.